La panda è di casa sulle montagne svizzere da molti decenni. Ogni tanto se ne vedono perfino esemplari della prima generazione. Vi si riconosce dalla forma netta e squadrata. Quando una panda della prima e dell'ultima generazione si incontrano, è sempre un momento speciale. Dopo essersi annusate per un po', le due proseguono insieme il loro viaggio attraverso la natura selvaggia. Grazie a tutti.